Paolo Poli e Daniele Fontanelli che ci parleranno di Accanto, robot amici per gli anziani. Grazie mille. Allora, io parlerò oggi di un progetto europeo che stiamo svolgendo a cavallo tra due dipartimenti dell'Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Industriale e quello di Ingegneria e Scienze dell'Informazione ed è un lavoro che ha richiesto svariati anni ed è coordinato da me e da Daniele Fontanelli che parlerà insieme a questo spazio e con me e ha visto la partecipazione di svariate persone di valore che hanno avuto opportunità importanti di crescita professionale e di formazione. Allora, il punto di partenza è questo. Abbiamo una situazione in Europa in cui c'è 80 milioni di persone che a vario titolo sono in qualche maniera interessate al problema della disabilità. Allora, questo problema della disabilità impatta quindi in maniera diversa. si passa da difficoltà di mobilità, richiesta di assistenza personale, difficoltà di vista e di udito, fino ad arrivare nel caso estremo a demenza o Alzheimer. ecco, la cosa fondamentale da capire è che la maggior parte di queste persone interessate da disabilità sono anziani. Per un anziano, è già difficile per un ragazzo, ma per un anziano che è interessato a un problema di disabilità e anche effettuare delle attività normali e ordinarie può diventare difficile. E quindi possono nascere una serie di conseguenze piuttosto spiacevoli, come isolamento, depressione e persino malnutrizione, perché una persona che esce meno di frequente non acquista semplicemente i cibi migliori, più nutrienti e spesso si accontenta di mangiare, non so, del latte o cose che comunque non sono adeguate a quelli che sono i propri fabbisogni nutritivi. Allora, questa cosa qui rende meno trionfalistico il quadro di quella che è stata l'evoluzione degli ultimi anni sull'estensione della vita media, perché noi sentiamo dire in continuazione che si vive sempre più a lungo, ed è vero, ma a che prezzo? Se noi guardiamo questi grafici, questo grafico qui è un grafico tratto da un sito dell'Eurostat, che dice, pigliamo una persona, fotografiamola a 65 anni, in questo momento era credo il 2011, e cerchiamo di capire quanti anni vivrà, ma cosa più importante, quanti anni riuscirà a vivere senza limitazioni, quanti anni riuscirà a vivere senza malattie gravi? E si scopre che dei 17-18 anni di vita residua, solo 6, 7, 8 possono essere così qualificati come anni di vita piena, realizzata e soprattutto autonoma. E da questo punto di vista, sempre nello stesso studio, possiamo osservare che la percentuale dei disabili nella fascia di popolazione dei 65 anni in più è molto alta. Cioè nel senso che, per esempio, questo qui è uno studio che riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea, ma in Italia vediamo che il 61% dei disabili cade nella categoria 65 anni in più. Quindi un ulteriore aggravamento della disabilità dovuto anche al senso di fragilità che deriva dall'età. Ora, se osserviamo l'Italia, la situazione è ancora più preoccupante. Perché? Questo è un recente articolo di una collega dell'Università di Firenze. Non questo, scusate. Non so, purtroppo non riesco a dominare. Ecco. Perché non si ferma su questa slide? Ecco qua, ce l'ho fatta. Ok, qui si prendono in considerazione due indicatori. La vita media, dal 94 fino al 2012, si vede che per gli uomini, per esempio, è passata dai 75 agli 80 anni circa, per le donne dagli 81 agli 84. Però la cosa che si vede, questi altri indicatori, sono healthy life years, cioè gli anni in piena salute. E quello che si può vedere è che a cavallo dei primi anni 2000 c'è stato un crollo di questi anni vissuti in piena salute. Può essere imputabile a tante cose. Una cosa che a me viene in mente è la continua contrazione delle spese nella sanità, che fanno sì che l'assistenza alle persone sia meno puntuale, meno efficace. Ma questo purtroppo è un dato con cui bisogna fare i conti. La popolazione invecchia e per vari motivi i soldi che si vogliono investire in questo campo sono sempre di meno. Il risultato è questo. Quindi noi stiamo assistendo nel nostro paese a una situazione veramente preoccupante in cui l'aumento dell'età media corrisponde a una caduta della qualità di vita negli ultimi anni. Cosa possiamo fare? La nuova frontiera della medicina quindi è diventata, più che l'estensione della vita, l'estensione della vita vissuta in maniera sana. Quello che a livello di keyword viene chiamato healthy aging, cioè invecchiare in salute. Questa è la nuova frontiera della medicina, perché ormai probabilmente come vita media stiamo un po' arrivando al limite. Allora la vera frontiera non è estendere tutt'ora arrivare ai 90, 95, 100 anni, no. Ma è molto più importante con gli ultimi 10, 15 anni farseli pienamente. Ok? Per essere molto brutali e chiari. Allora, cosa dobbiamo affrontare per riuscire a fare questa cosa? C'abbiamo due circoli viziosi veramente terribili da questo punto di vista. Il primo riguarda un declino che noi chiamiamo graduale. E quello che succede è questo. Una persona comincia gradualmente con l'età a ritirarsi alle attività sociali, comincia ad andare a fare la spesa più raramente, comincia ad andare al museo più raramente, comincia ad uscire con gli amici più raramente. Questa cosa gli fa perdere abilità fisiche e la perdita di attività fisiche genera una accresciuta percezione della propria insicurezza. Uno si sente meno forte e meno sicuro. E per il fatto di sentirsi meno forte e meno sicuro, cosa fa? Esce ancora di meno. E quindi è un ciclo che si avvita su se stesso e che porta inevitabilmente a perdita graduale delle capacità funzionali. Ora, nel caso poi ci sia un evento traumatico, la cosa è ancora peggiore. E questo lo stiamo studiando proprio nell'ambito del nostro progetto. Un evento traumatico cosa intendo? Posso intendere un ictus, uno stroke, una caduta che determina una frattura dell'anca, per esempio una frattura del femore. Questo genere di eventi. Allora, cosa succede? In reazione a un evento del genere c'è una lunga ospedalizzazione. Per lunga ospedalizzazione intendiamo 15 giorni anche, ma anche di più. Allora, è stato studiato che c'è una perdita molto forte di massa muscolare nelle persone anziane durante quando sono, passatemi il termine, allettate. Si parla di percentuali veramente significative. Sta di fatto che una persona del genere, dopo che viene dimessa dall'ospedale, rischia di avere perso una quantità di massa muscolare, tale da non permettergli un recupero, vero. O da permetterlo in tantissimo tempo. In molti casi non si ritorna più come prima. Chiunque di noi è una persona anziana in casa l'ha sperimentato personalmente questo, purtroppo. E dove si ritorna? Si ritorna alla perdita di funzionalità, si ritorna alla possibilità di avere ulteriori eventi traumatici ripetuti che accelerano ancora di più questo declino. Noi stiamo lavorando con l'ospedale di Madrid e una delle cose che stiamo studiando è che dopo la frattura dell'anca su una fascia di età over 75 c'è un tasso di mortalità a sei mesi veramente alto. Perché questo ciclo agisce in maniera veramente violenta. Allora, come fare ad aggredire questo tipo di dinamiche? Il modo di farlo è tramite l'attività fisica e il luogo di Colombo. Cioè nel senso, se noi riusciamo a far mantenere le persone in buono stato di attività fisica, molti degli effetti che abbiamo visto prima vengono rallentati. Non dico spariscono, vengono rallentati. Allora, da questo punto di vista l'uso di tecnologie assistenziali come robot può essere di aiuto. Io non voglio vendere fumo, non dico che è la pallottola d'argento che uccide qualsiasi cosa, no, però può essere veramente di aiuto. Può essere veramente di aiuto nella misura in cui queste tecnologie possano essere accettate dalla persona. E qui ritorna il problema trattato nella relazione precedente, proprio di proporre questa tecnologia in maniera occultata, in maniera che entri a far parte della vita della persona senza essere percepita come un elemento esterno che crea stigma e che crea senso di imbarazzo o cose di questo tipo. Quindi con attività fisica noi possiamo amplificare gli effetti benefici di attività fisica e compensare potenziali disabilità. Questo ci ha dato l'idea del nostro progetto che è basato su due cardini, su due pilastri. Uno è la realizzazione di un robot che abbiamo realizzato nei nostri laboratori qui a Povo. Ora, lo vedete così, sembra abbastanza intimidente con luci, cavi, eccetera, però nel momento in cui si arrivasse a una fase di industrializzazione vedreste un normalissimo deambulatore, un po' forse leggermente più cicciottello per ospitare batterie, schede e quant'altro. Ok? Ecco, questo tipo di deambulatore cosa fa? Aiuta le persone, ovviamente come supporto fisico, questo è ovvio, come tutti i deambulatori, ma lo fa in maniera, già questo, in maniera diversa. Per esempio può aiutare ad andare in salita con le proprie ruote, non facendo sentire il peso alla persona della spinta in salita. Può frenare la persona che sta scendendo, opponendosi alla forza di gravità e quindi generando una sensazione di stabilità maggiore. Può osservare l'ambiente esterno e prendere decisioni su come far spostare la persona che abbassino i rischi. Può guidare la persona. E nel fare questo abbatte quella che è la paura, la barriera, che ciascuno di noi ha, e gli anziani in maniera particolare, tra il decidere di fare una cosa e poi passare alle implementazioni. Vorrei uscire, però ora mi tocca capire come fare ad arrivare a Piazza Duomo, ma forse li è affollato e vuoi girare da un'altra parte. Uno comincia a crearsi tali e tante piccole barriere che alla fine non esce più. Ok? Noi invece cerchiamo di aggredire queste barriere. Da un lato dando il supporto. Dall'altro, e questo è il secondo pilastro del nostro progetto, lavorando sulla dimensione sociale. Perché non possiamo semplicemente motivare una persona aggredendo le sue paure, ma dobbiamo stuzzicare le sue passioni. E da che mondo in mondo la persona è uno dei modi migliori di motivarla e coinvolgerla in un contesto sociale. Quindi il nostro robot è in grado di estrarre informazioni su dove la persona va, su cosa prova in certi posti. Quindi creare in maniera del tutto trasparente dei profili di questa persona, in maniera controllata, senza che nessuno abbia accesso a questi dati, in maniera maliziosa, combinarlo con quello di altre persone simili e generare delle attività sociali che facendo leva su questa dimensione appunto della naturale tendenza alla socialità, possano spingere la persona a muoversi. Ecco, questo progetto ha richiesto tanto sforzo tecnologico, coinvolto tanti partner, otto a livello europeo. Il nostro obiettivo è di arrivare comunque a una piattaforma accessibile in termini di costo, vuol dire dai 5 ai 10 mila euro a seconda del tipo di uso che se ne fa. Tenete presente 7 mila euro il costo di una sedia a rotelle motorizzata. Ora, sulla tecnologia non mi dilungo perché il mio collega che mi segue vi dirà molto di più. Volevo spendere due parole però sulla metodologia di sviluppo che abbiamo seguito in questo progetto. E anche questo ricalcando alcuni degli interventi precedenti che ho udito. Cioè, una delle cose che bisogna fare è quella di partire effettivamente veramente dai requisiti delle persone. Cosa serve alla persona? Cioè, non bisogna in qualche maniera convincerli che hanno bisogno di un qualcosa solo perché ho avuto un'idea che mi piace spacciargli. Ma percepire il bisogno, sviluppare una soluzione intorno a questo bisogno insieme, coinvolgendo la persona in tutte le fasi e noi lo abbiamo fatto come farà vedere anche il mio collega coinvolgere anche altri attori come familiari, come infermieri, dottori, eccetera e alla fine testarla, ritestarla, riprovarla, riadattarla, eccetera fino ad arrivare a un risultato soddisfacente. Ora, per darvi un'idea del livello di coinvolgimento che si arriva ad avere vi vorrei far vedere questo appunto. questo appunto è di una persona di 94 anni una persona che abbiamo coinvolto all'interno del nostro lavoro che doveva venire a provare il nostro robot per fare dei test e è arrivata e ha detto sì, sì, mi ha descritto i miei collaboratori gli avevo descritto il robot sì, ma a me non mi torna secondo me lo dovreste fare così. E si è fatta, a 94 anni facendosi aiutare dalla figlia di un'altra anziana che era l'architetta, un disegno dicendo come secondo lei doveva essere fatto il dambulatore perché potesse funzionare veramente. Quindi se si sanno toccare i tasti giusti il livello di coinvolgimento che si riesce a ottenere dalle persone è veramente importante. Penso di avere un altro paio di minuti per questa parte introduttiva poi lascio al mio collega allora di tutta questa cosa noi abbiamo isolato in qualche modo due casi di studio e stiamo facendo sperimentazioni cliniche uno è appunto a Madrid ed è un caso di studio diciamo di tipo clinico proprio post-traumatico riabilitazione post-traumatica la persona si ritrova ad essere a letto perché ha avuto una frattura dell'anca o perché ha avuto uno stroke quello che succede è che non ci sono fisioterapisti abbastanza per dire dai facciamo gli esercizi facciamo gli esercizi allora noi cosa facciamo? Mettiamo il nostro robot accanto al suo letto che si risveglia periodicamente e chiede alla persona dice dai tirati su e ora ti dico cosa devi fare e la guida attraverso degli esercizi che ora non sto a descrivere ma sono esercizi orto-geriatrici e di riabilitazione suggeriti dai medici questa cosa qui può essere cruciale perché? perché in quella benedetta settimana in cui si perdono percentuali e percentuali di massa muscolare noi rallentiamo questo declino e facilitiamo il recupero nella fase successiva il secondo caso di studio invece è quello proprio di considerare persone sane o relativamente sane invitandole a attività con questo tipo di robot e stiamo sperimentando appunto in vari contesti tra cui il Muse eccetera proprio per sfruttare quella che è la dimensione sociale che accennavo prima adesso cederei il microfono al mio collega che vi spiegherà altre cose più tecniche salve buon poveriggio io sono Agnale Fontanelli e lavoro al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento e cercherò di darvi un po' un'idea di quella che è la tecnologia che sta sotto quello che abbiamo sviluppato in particolare mi soffermerò solo su quelle cose che abbiamo fatto direttamente noi nei nostri laboratori allora essenzialmente per fare parte delle cose che ha spiegato prima il professor Palopoli un punto fondamentale è quello di riuscire a muovere a far muovere il robot e chiaramente anche l'utente in ambienti che siano condivisi con altre persone che tendenzialmente sono ambienti mediamente o densamente affollati per far questo è necessario riuscire a guidare gentilmente l'essere umano all'interno dell'ambiente condiviso il che significa senza fargli percepire che viene strattonato che viene tirato oppure che fa cose che non sarebbero naturali e quindi per far questo nel movimento del robot si deve per certi versi soddisfare alcune regole sociali che sono le regole comune di comportamento che ognuno di noi tiene quando cammina in un ambiente condiviso per l'appunto e poi oltre a queste cose qui bisogna tenere in considerazione quello che è il target del robot che per esempio se nel caso della riabilitazione clinica significa far camminare l'utente per un certo numero di minuti con una certa intensità con un certo sforzo per un certo periodo di tempo e così via allora per riuscire a soddisfare questi tipi di vincoli che abbiamo si deve essenzialmente rispondere a quattro domande principali la prima è bisogna capire come le persone si muovono all'interno dell'ambiente condiviso la seconda è cercare di far capire al robot dove si trova all'interno dell'ambiente per poter poi guidare l'utente verso la destinazione desiderata la terza è essenzialmente far capire al robot che tipo di percorso deve intraprendere all'interno di un ambiente condiviso e l'ultima è cercare di portarcelo fisicamente nel posto desiderato allora partiamo dal primo nel primo caso capire come si muove un essere umano significa tirar fuori un modello del comportamento dell'essere umano ora qui in questi brevi video ci sono un paio di approcci diversi a come si muovono i robot quello a sinistra sono i robot Kiva che sono utilizzati nei magazzini di Amazon e che sono tipici robot industriali mentre a destra vedete un video su un robot Spencer che è un robot diciamo sociale che viene utilizzato all'interno dell'aeroporto di Amsterdam per guidare i viaggiatori verso il gate giusto ora la differenza principale fra questi due o meglio che non è esattamente in questi due ma che noi abbiamo è che oltre a capire l'ambiente sociale che ci sta intorno e quindi a capire se ci sono persone se le persone parlano se bisogna starci lontano se ci si può avvicinare eccetera in più noi abbiamo un ulteriore problema che è il robot stesso che si deve comportare come si comporterebbe una persona e questo perché non è un robot autonomo ma perché ha di fatto diciamo tra virgolette passatevi il termine attaccato a una persona sopra e quindi deve eseguire esattamente movimenti che una persona normalmente farebbe all'interno dell'ambiente il che significa che cose tipo robot industriali cioè il robot che si muove a scatti si muove davanti poi gira a sinistra poi va avanti non sono movimenti ammissibili allora per riuscire a rispondere a questa domanda la prima cosa che abbiamo fatto è stata essenzialmente capire quali sono le regole sociali cioè come le persone si muovono nell'ambiente effettivamente e le regole sociali essenzialmente sono quel insieme di regole che ciascuno di noi soddisfa quando condivide l'ambiente con altre persone che sono regole non scritte per esempio lasciare la strada ad una persona quando si cammina in mezzo alla strada piuttosto che deviare leggermente il cammino e cose di questo tipo che appartengono principalmente a quella che viene chiamata negoziazione non verbale per capire come queste regole sociali si riflettono nei confronti delle persone che utilizzano un deambulatore abbiamo fatto degli esperimenti abbiamo fatto degli esperimenti a Trento mandando in giro delle persone utilizzando il walker che in questo caso sono studenti del Dipartimento di Scienze Cognitive di Rovereto e come vedete in alto a sinistra c'è la strada con la persona che cammina con il deambulatore e sotto invece c'è la soggettiva della persona che cammina in mezzo alla strada questo esperimento è stato ripetuto in altri ambienti sempre all'aperto e con persone chiaramente ignare del fatto che in qualche modo le stavamo osservando e la cosa interessante è che abbiamo analizzato i comportamenti che le altre persone hanno nei confronti del walker abbiamo isolato tutta una serie di comportamenti di movimento delle persone qualora si trovino di fronte a qualcuno che cammina con il walker tipo coppie che si dividono piuttosto che stanno fermando in mezzo alla strada piuttosto che camminano si muovono di lato da questa analisi ne deriva principalmente che le persone tendono ad avere un comportamento che è il più possibile regolare il che significa che raramente cambiano la velocità raramente fanno passaggi di lato cioè si muovono di lato lo fanno soltanto quando ci sono vincoli troppo stringenti di spazio cioè quando sostanzialmente non c'è spazio di manovra e tenendo in considerazione tutti questi fattori ci siamo domandati come fosse possibile riuscire a replicare questi tipi di comportamenti con un robot allora la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo derivato un simpatico modello matematico del quale non vado non entro nei dettagli ma che ci permette in qualche modo di replicare tramite quel sistema di equazioni differenziali che vedete lì ci permette di replicare entro certi termini il movimento delle persone queste sono delle simulazioni per esempio questi due sono simulazioni di persone che si incrociano camminando mentre a destra vedete un esempio di un gruppo di persone simulate che simulano una visita a un museo dove i vari rettangoli rappresenterebbero quadri, statue o punti di interesse all'interno del museo e la simulazione del museo scusate del modello che abbiamo tirato fuori è in grado di replicare una visita in un modo piuttosto affidabile ora una volta che abbiamo qualcosa che in qualche modo ci descrive come si muovono le persone adesso dobbiamo capire dove si trova il robot per rispondere a questa domanda questo problema viene genericamente individuato in robotica con il problema di localizzazione e per capire perché è importante far capire il robot dove si trova facciamo un semplice esempio questo è il nostro una persona anziana che si muove in un ambiente e vuole seguire un certo cammino desiderato quando la persona si muove quello che succede è che l'idea che il robot ha della sua posizione rispetto alla posizione vera è completamente diversa questo perché è un sistema meccanico è affetto da incertezze ci sono vari sorgenti di rumore e quindi di imperfezioni diciamo dal punto di vista meccanico che fanno credere al robot di essere in una posizione diversa da quella che è effettivamente qual è il problema? il problema è che noi vorremmo far fare al robot qualcosa che significa che il robot deve utilizzare la sua conoscenza della sua posizione per eseguire un certo compito se noi quindi adesso ci rimponiamo nella stessa condizione iniziale e facciamo seguire quel percorso al robot quello che succede è questo che l'idea che del robot ha di sé rimane sul percorso ma la persona è data da tutt'altra parte e se siamo in un corridoio questo genera dei problemi quindi il problema di localizzazione è essenzialmente quello di cercare di far sì che il robot abbia un'idea precisa di dove si trova all'interno dell'ambiente altrimenti è assolutamente inutile dal nostro punto di vista ovviamente cioè quindi per controllarlo ora qui vedete una foto del walker nell'ambiente nel quale abbiamo fatto i nostri esperimenti e in questo specifico esempio la cosa un sistema di localizzazione che abbiamo utilizzato è quello di adottare una telecamera davanti al robot che inquadra il pavimento e sul pavimento ci sono alcuni disegni particolari che sono codici QR o cose simili che sono riconoscibili dal veicolo questa è un'implementazione ma ce ne possono essere alternative tipo mettere questi disegnetti sul soffitto piuttosto che sulle pareti o da altre parti e queste sono essenzialmente le informazioni che il robot utilizza per capire dove si trova abbiamo quindi fatto degli esperimenti con gli anziani sulla sinistra vedete due anziani che stanno provando il walker come si muove all'interno dell'ambiente e a destra vedete invece quello che è il risultato della localizzazione quindi in questo modo mettendo una telecamera e facendoli osservare al robot alcuni diciamo marker alcune cose conosciute all'interno dell'ambiente è possibile far fare far sapere al robot esattamente dove si trova nell'ambiente detto questo ci siamo posti un altro problema e dire ok so come si muovono le persone so dove sono adesso devo far muovere il robot da un punto ad un altro per far sì che questo sia possibile essenzialmente abbiamo bisogno di due cose la prima è di alcuni sensori cioè essenzialmente occhi orecchie o cose di questo tipo a bordo del robot che gli permettano di capire la situazione nella quale si trova la seconda è la conoscenza dell'ambiente nel quale mi muovo e per riuscire a far muovere il veicolo all'interno dell'ambiente abbiamo diviso il problema in due parti uno è sostanzialmente un pianificatore di traiettorie cioè una pianificazione di una serie di azioni che vengono fatte nell'ambiente e che ci permettono di soddisfare tutta una serie di requisiti tipo come vi dicevo prima la persona deve camminare non più di un minuto e mezzo di seguito deve bruciare un certo numero di calorie si deve riposare ogni tre minuti e cose di questo tipo allora per riuscire a soddisfare questo vincolo il nostro robot fa questo tipo di ragionamento supponiamo che abbiamo una persona che si trova all'interno di un supermercato e che debba visitare tre posizioni all'interno del supermercato quello che fa il robot è pianificare una strada all'interno del supermercato che gli permetta di andare in tutti i punti di interesse dopodiché ci sono dei vincoli ulteriori per esempio e questa è una cosa che ci è stata richiesta direttamente dal nostro particolare sette ritenti quando si muovono vogliono essere il più possibile vicini alle toilette quello che succede è che il robot modifica la traiettoria e fa in modo che questo vincolo venga ulteriormente soddisfatto e questo per tutta un'altra serie di vincoli ulteriori che continuano a modificare il cammino tipo per esempio in questo caso evitare un gruppo di persone che stanno all'interno di un corridoio e così via finché non si arriva in fondo ad una pianificazione quindi a una traiettoria a un percorso desiderato che vorremmo far seguire all'essere umano in modo da raggiungere la posizione desiderata a questo punto si pone un problema ci muoviamo in un ambiente ma l'ambiente è condiviso ci sono altre persone all'interno allora quella traiettoria che noi abbiamo pianificato che è quella striscia blu che vorremmo seguire potrebbe non essere disponibile perché nel mezzo ci possono essere altre persone allora quello che fa il nostro veicolo è che capisce se ci sono delle persone nel mezzo utilizza il modello che abbiamo descritto in precedenza per capire come si muovono le altre persone per rispettare le regole sociali e pianifica delle traiettorie di accerchiamento per far questo utilizza una telecamera 3D che si trova davanti al veicolo giusto per darvi un'idea di come funziona veramente questo è un video di alcuni esperimenti che abbiamo fatto con il veicolo e qui sotto vedete il veicolo che sta laggiù e questa è la soggettiva del veicolo in questo caso il robot si deve muovere in quest'ambiente e deve cercare di evitare le persone qualora riuscisse a vederle come vedete lui si vorrebbe muovere lungo una traiettoria ma incontra un po' di persone che gli attraversano la strada e la cosa che fa è lievita e poi si riporta sul percorso e torna nella direzione desiderata nel far questo le traiettorie che vengono generate sono traiettorie che soddisfano i vincoli di movimento delle persone cioè sono traiettorie che minimizzano o meglio mettiamo in altri termini in altri termini tecnici aumentano il comfort della persona mentre controlla il veicolo questi sono altri risultati sempre con lo stesso schema qui in questo caso l'utente è bendato quindi non ha nessuna coscienza di quello che succede nel caso di sopra invece a un certo punto la persona si lega a una stringa e quello che fa il robot lo evita e va diritto verso la posizione desiderata infine ci poniamo l'ultimo problema e l'ultimo problema è come faccio a effettivamente controllare il robot in modo tale che sia il più possibile comodo per l'utente allora in questo caso abbiamo sviluppato una serie di sistemi di guida e questi sistemi di guida rispetto al walker si basano su le ruote posteriori che hanno dei motori che permettono di spingere il veicolo e sulle ruote anteriori che hanno ulteriori motori che permettono di stressare le ruote davanti e l'idea fondamentale al di là chiaramente dei tecnicismi è la seguente noi utilizziamo un paradigma che si chiama authority sharing cioè vogliamo dividere l'autorità fra l'essere umano e il robot che cosa significa che finché l'essere umano si comporta più o meno correttamente rispetto al percorso che deve seguire lo lasciamo andare in modo che lui abbia la sensazione che è lui a decidere le cose quando ci accorgiamo che l'essere umano devia dal percorso e vuole andare da un'altra parte allora cominciamo a suggerirli tramite i sistemi meccanici che vi ho detto prima la strada corretta per ritornare sul cammino giusto e questa cosa la facciamo più la situazione diventa pericolosa per esempio se vediamo che l'utente va verso una scala la cosa che facciamo è che a mano a mano che lui si avvicina il robot diventa sempre più autoritario fino a che è il robot che prende la decisione e lo porta via dalla scala questi infine sono tutti sono un po' di video raccolti sulle prove sperimentate che abbiamo fatto con gli anziani e in questo caso abbiamo avuto un numero di circa 40 utenti che hanno diversi tipi di disabilità quindi in questo caso in questi video che vedrete vedrete persone che sono normalmente abili come la signora sinistra e altre persone invece che utilizzano abitualmente il walker oppure che utilizzano altri sistemi di ambulazione tipo bastoni tendenzialmente sono persone che vanno da un range dai 65 anni fino ai 100 anni abbiamo avuto anche un utente di esattamente 100 anni 102 102 anni e la cosa interessante che abbiamo fatto fare questi test a questo nucleo di anziani poi li abbiamo intervistati per sapere che cosa ne pensassero abbiamo collezionato tutta un'altra serie addizionale di requisiti per far sì che poi alla fine riuscissimo in qualche modo a essere il più confortevoli possibile per gli esseri umani questo è l'esempio per esempio che diceva prima il professor Palopoli con questo tipo di sistema e con l'hardware che c'è a bordo è possibile anche trasportare le persone qualora si sentissero stanche e quindi a quel punto lì è il robot che funziona essenzialmente come una sedia a rotare motorizzata e direi che ci siamo ok questo è quanto ringraziamo quindi Luigi Paolo Poli e Daniele Fontanelli dell'Università dei Studi di Trento per averci illustrato come l'uso di queste tecnologie robotiche può che